Continua la strategia dell'amico dei nostalgici di Mussolini di Casa Popand di oscurare le malefatte di destra chiamando in causa la sinistra, le violenze squadriste avvenute sabato non hanno purtroppo smosso alcuna reazione contraria al fascismo da parte di questa destra sempre più ipocrita piuttosto che dire di essere contraria alla violenza fascista perché di quello si tratta si arriva addirittura a dire che fascismo e comunismo non esistono più diamo uno scoop in anteprima, fascismo e comunismo sono stati sconfitti dalla storia e non tornano più Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a Trieste per sostenere il candidato a sindaco di centrodestra, Roberto Di Piazza In qualche redazione ci si appassiona questo tema perché c'è paura a confrontarsi su questo tema ha continuato ma noi non veniamo a fare campagna elettorale senza parlare di periferie e piazze dicendo votate noi perché altrove ci sono pericolosi delinquenti negazionisti Foibe e Titini, è curioso farsi dare lezioni in libertà Chi ritiene che migliaia di italiani massacrati dai Titini siano un incidente di percorso che non merita il ricordo Vergogna, certa gente mette in discussione il giorno del ricordo, ha concluso